ok sono tornato allora? prendiamo questo medaglione potrebbe essere utile andiamo fantasmi Helen, Helen, scappa, scappa lasci andare i fantasmi non perdiamo tempo questi andiamo qui c'è qualcosa che non c'è ma non c'è niente sento qualcosa dal pozzo manca qualcosa dai è cominciato io ho sette vieni vieni manca solo questa anzolla non c'è perfina quando non c'è Oh no, è questo chi è? È la vittima che ha visto morire qui Oh no Ma allora è una tortura E poi aiuta a me Aiuta a me Stabila Con questo dovrei averlo accoppato Tu dici? Era un proiettile fatto apposta, lo spero Di lì Ho un passo la bambola Ora mi manca l'ultimo Vieni di qui Sì Aspettami Dici che non ci darà più fastidio Non lo so questo Però Spero di no Vieni Spero di no Non lo so Forza Andiamo Non passiamo a tempo non perdiamo tempo vieni di qua vieni di qua non perdere tempo vieni di qua forza andiamo guarda che abbiamo messo K.O. andiamo tanto non potremo mai ucciderlo ok io credo che in un'altra parte c'è un'orfanaggio chiamato la casa di un'orfanaggio chiamato 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 solta panchetta vieni con me oh no vieni possiamo perdere guarda guarda non c'è tempo guarda 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 Sì. 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 Forza ci siamo. Sì. Ora dobbiamo mettere gli ultimi due pezzi ed è fatta. Sì. Si. Sì. Ah, è vero. Vieni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La discesa della Santa Madre, i ventun sacramenti, il primo segno, Dio disse, quando sarà il momento, purifica il mondo con la mia ira, raccogli l'olio bianco, la coppa nera e il sangue dei dieci peccatori, preparati per il grito della Sagra Assunzione. Il secondo segno. Il secondo segno è un allineamento e l'ultimo segno, e Dio disse, separa dalla carne anche colei che la madre è rinata e colui che riceve saggezza. Se questo sarà fatto, attraverso i misteri dei ventun sacramenti, la madre rinascerà e la nazione del peccato sarà redenta.